Un giorno ci andrò lì fuori, perché uccidere un drago è tutto qui da noi. Un uncinato di sicuro mi farà perlomeno notare. I groghi sono tosti. Se ne abbattessi uno, troverei sicuramente una ragazza. Un bizzippo? Esotico, emozionante. Due teste, doppio trofeo. Hanno trovato le pecore! Concentrate il fuoco sulla sponda a valle! Regatemi! Fuoco! E poi, ci sono gli incubi orrendi. Solo i vichinghi migliori danno loro la cazza. Hanno l'odiosa abitudine di darsi fuoco. Ricaricate! A questo ti penso io. Ma il trofeo supremo è il drago che nessuno ha mai visto. Lo chiamiamo... La furia buia! State giù! Saltate! Quel mostro non ruba mai il cibo. Non si fa mai vedere e... Non sbaglia mai il colpo. Nessuno ha mai ucciso una furia buia. Ecco perché sarò io il primo. Fa la guardia, Ick. Hanno bisogno di me là fuori. Accuccia! Fermo! Lì! Ci siamo capiti. Aaaaaah! Ick, dove vai? Eh, torna a Cilasar! Non lo so che fa! Dov'è, torna a Cilasar! Dov'è, torna a Cilasar! Dov'è, torna a Cilasar! State attenti! Questi diavoli hanno ancora il fuoco in corpo! Andiamo, un bersaglio da colpire, un bersaglio da colpire. Oh, l'ho preso! Sì, l'ho preso! C'è qualcuno che l'ha visto! A parte te. Non lasciate scappare quei draghi! Bene! Sei a secco! Ah, e c'è un'ultima cosa che dovete sapere. Scusa, papà. Scusa, mamma! Scusa, mamma! Scusa! Magma! Scusa! Abonni!